Ma buongiorno da Elio, si gira, si va? Oggi, spero, con questo grande gradimento, si fa? Imitazioni? Sì sì, spero vi piacciono. Ok, allora, si incomincia? Chi dite? Sì dai, allora, 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 incominciamo, 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 ho sbagliato, ho fatto girare gli occhi? Va bene, dai, adesso vi presento il primo, diciamo così, ospite, così, veramente, veramente, questo è fantastico, veramente, veramente, voi presenti un grande amico, che è arrivato qui, veramente, 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 arriva. Ehi cacchio, e siete forti, e oggi, mentre rifletto bevo un goccio d'acqua, e veramente, oggi, cacchio, splende il sole? Splende, e io sapevo una cosa che dicevano, il sole, baci belli, e io ho saputo un'altra versione, io sapevo quella, è forte questa, e sapevo questa qui, e il sole bacia i brutti, perché i belli li baciano tutti, sapevo questa altra versione, e cacchio, io prima non la sapevo, e come mai, adesso la so, e c'è qualcosa che non quadra, e allora io penso che sto sole illuminerà, e sì è, e allora io, a sto punto, io, cacchio, vi saluto, e che devo fare, non c'è neanche un cioccolatino qui, e cacchio, e come mai, io volevo un ovettino di cioccolatino, e non c'è, e allora io, a sto punto, vi saluto, e, alla salute, e vi aspetto prossimamente, è forte sta cosa, perché è forte, io, mi spasso un altro mio amico qua, e vi saluto, e, ciao amici, ciao, ciao amici, ciao, e io, ciao, vi dico, mamma mia, come sto, e chi dè, mare, mi hanno detto, vieni qui, beviti un sorsetto d'acqua, ho fatto un gargarismo, mamma mia, come sto dopo il gargarismo, e chi dè, e chi dè, va bene, oh, io vi saluto, e vado, ciao, mamma mia, come sto, e chi dè, e dove sto seduto, oh, non mi trovo, ok, ciao,